Ciao a tutti, benvenuti al continuo in questo video di Cenerentola dove vi presenterò la variante magica, quindi una variante per giocare il gioco base di Cenerentola. Partiamo da come va intavolata la variante. Per intavolare la variante magica vi servirà sempre l'orologio con la lancetta sulle 12, vi serviranno le tessere base come nella variante base e in più vi serviranno le tessere speciali. Cosa ce ne faremo delle tessere speciali? Le mescoleremo e andremo a darne una a ogni giocatore che c'è in gioco con noi che la metterà rivolta faccia in su, per esempio io avrò questa qua che è una bacchetta magica, il mio compagno avrà un'altra bacchetta magica e il terzo componente avrà un calderone. Di queste altre tessere che avanziamo, 4, casualmente, le mettiamo nel nostro gioco base. Andrà a rendere il memory molto più difficile in maniera tale che riconoscere le tessere sarà ancora più complesso. Queste tessere qua se trovate nel gioco girandole saranno delle tessere farlocche, quindi non andranno considerate. Le restanti tessere che ci avanzano le riponiamo nella scatola. Siamo ora pronti a iniziare la partita, come nel gioco base chi avrà cenerentola inizierà la partita e si giocherà con il lancio del dado. Abbiamo però queste tessere aggiuntive in più, quelle che abbiamo nel gioco coperte abbiamo detto che sono farlocche, quindi non ci interessano, andranno ovviamente evitate nelle scelte della clessidra. E invece quelle che abbiamo qua saranno dei bonus che potranno essere utilizzati una sola volta nella partita. Quindi per esempio io quando uso la bacchetta poi la scarto. Ma quando posso usare questi bonus? Io posso usare questi bonus quando sul dado esce lo stesso simbolo. Quindi per esempio io tiro esce la bacchetta, posso decidere di utilizzare il bonus bacchetta. La bacchetta cosa mi permetteva di fare quella del dado? Di rivelare una carta mia scelta. Se io decido di usare il bonus bacchetta potrò rivelare due carte a tutti i giocatori e poi rigirarle. A questo punto che ho usato il bonus dovrò scartarlo, quindi è un aiuto che avrò una volta nella partita. Questo qua è il bonus calderone, se vi capita questo bonus quando tirerete un calderone potrete decidere di utilizzarlo. E questo bonus vi permetterà di guardare due tessere invece che una. Però funziona esattamente come il calderone, quindi le due tessere le guarderete solo voi, non le farete vedere agli altri giocatori. E avrete questo vantaggio. Mi raccomando una volta usata vale solo una volta, la scartiamo. Le altre due tessere che avete di bonus sono lo specchio e la clessidra. Lo specchio e la clessidra si usano nel caso della clessidra. Lo specchio vi permetterà di girare tre carte invece che due per provare a cercare la vostra coppia. Cosa vuol dire? Se io giro questa e poi sono indecisa fra queste due qua, posso provare a girarle entrambe. Ovviamente le giro guardandole io, se non sono corrette le rigiro. Se invece riesco a formare la coppia, la andrò a tenere. E questa carta verrà scartata. La clessidra vi permetterà di evitare di spostare l'ora di un'attacca quando userete la clessidra. Quindi l'orologio resterà fermo lì, questo vi darà un turno in più per risolvere il caso. Quando sarete ormai dei super esperti potrete provare con la variante avanzata che comporterà il trovare prima la coppia di topolini, poi la coppia di cavalli, poi la coppia di scarpette, abito e guanti, ratto, cucchiere e zucca con carrozza. Riuscirete a trovarle tutte in ordine?